Come sta, il nonno? Lord Isshin è... Mi sorprende che sia ancora tra noi. È un miracolo. Dunque è così. Erede divino, lo chiederò di nuovo. Accoglimi nel tuo giuramento immortale. Non posso farlo, Lord Genichiro. La tua vittoria non ha alcun valore. Lui rischierà la sua vita per portarmi a casa. Perché lui è il mio shinobi. Mio sire, sono venuto per voi. Questo... Ci vorrà un attimo. Ho capito. Fino a quando tu sarai in vita, Il sangue del drago non sarà mai mio. Preparati. Shinobi. Pensavo che non l'avessi visto. Non c'errò. Ancora finito, ci novi del regge divino. Ancora finito, ci novi del regge. Davvero notevole, shinobi dell'erede divino. Ma meriti di meglio. Perché non servi un altro lord? Che eresia. Eresia dice. Se mi aiuterà a preservare Hashima, sono pronto ad abbracciare qualunque l'esea. A portare ogni mano. Osserva il fulmine di tumore. Allora. Eresia. Grazie a tutti. Machina. Dunque hai trionfato. Non è così? Tu sei... Non sono qui per combattere. Shinobi dell'erede divin... Lord Genichiro. Quelle sono... le acque del ristoro. Ashina. Questa terra... è tutto per me. Per il suo bene... Rinuncerò alla mia umanità. Ressurrezione. Sì. Senza dubbio. Addio. Grazie. Grazie. Grazie.